Nelle scorse puntate il Cavaliere Ulisse ha perso completamente la propria famiglia, ormai disperato il Cavaliere vaga per terre ignote, scavalca montagne, attraversa giganteschi oceani, ma all'improvviso qualcosa attira la sua attenzione, davanti a sé ha trovato la sua nuova casa, la sua nuova magione, il suo nuovo castello. Ed eccoci qui ragazzi nella nostra piccola nuova magione appena riusciremo effettivamente a distruggerla completamente dai nemici che sono all'interno perché dovrebbe essere un dungeon vero e proprio e ho installato un po' di altre mode nuovissime nelle exit, quindi le vedremo pian piano nelle prossime puntate e vi faccio un piccolo spoiler, ci saranno delle nuove tribù visto che come avete visto sicuramente dall'intro mi è morta la famiglia e quindi devo cercare un posto dove stare. Quella sarà un giusto equilibrio per il momento ma dovremmo trovare comunque qualcosa che ci soddisfi completamente. In ogni caso però ragazzi vi invito a lasciare un bel like e a condividere il video e ovviamente a iscrivervi al canale se siete ancora iscritti e iniziamo la puntata a non da combattere il secondo dungeon di questa serie. Sono tornato a casa velocemente per lasciare il bottino che abbiamo recuperato nella scorsa puntata e come state vedendo qui non è per niente male abbiamo un sacco di armature niente niente male anche se dovremmo comunque migliorarle pian piano perché tipo bisogna un po' diciamo metterli insieme quindi bisogna proprio di un anvil. Ho visto che dall'altra parte c'è una bella anvil quindi quella sicuramente la utilizzeremo per il momento comunque ci lasciamo giusto un paio di cosette che potrebbero servire per riparare un po' il nostro piccone e la nostra spada e il resto lo possiamo in realtà lasciare qui dentro o qui dentro manualmente. Introduciamoci nel castello vediamo un po' che cosa riuscirà a spawnare qua vicino vedo uno spawner di uno scheletro come immaginavo e ovviamente sono della chocolate quest che è diciamo la mod che crea sta cosa. Oddio abbiamo pure quello potenziato mi servirebbe rifare lo scudo che al momento è un po' distrutto perché in realtà si rompe troppo facilmente e non conviene molto utilizzarlo quindi dobbiamo anche sistemare quella cosa in questa puntata o nelle prossime. Ok ucciso ragazzi perfetto prima parte completata per ora questa dovrebbe essere in realtà la zona iniziale ci conviene mettere un po' di torce qui controllare qui dentro allora per ora abbiamo un bel po' di ferro mi servirebbe del ferro per poter ampliare le nostre chest che al momento sono un po' uno schifo quindi sinceramente potrebbe essere una buona idea e recuperare un po' di oggetti potrebbe essere interessante per degli scambi futuri con vari villager. Però qui c'è uno scheletro che ha delle frecce credo potenziate in realtà soltanto credo l'arco potenziato però siamo riusciti a scioltarlo facilmente e ci sono varie scale che portano in varie zone. Abbiamo un lava bucket fantastico un po' di librie che però per il momento non servono perché tanto non dovremmo enchantare nulla almeno non subito quindi per ora aspettiamo recuperarle tanto possiamo sempre tornare e qui abbiamo un po' di scheletri abbastanza incazzati con noi ok sono un po' tanti sinceramente direi di utilizzare questo metodo che è il metodo migliore secondo me ovvero aspetta che salgono e poi li uccidi perché tanto questi saliranno all'infinito ragazzi perché sono davvero stupidi e quindi così almeno recuperiamo un po' di livelli e un po' di cose abbiamo preso comunque credo behaving no un repair perfetto che mi serviva in realtà molto di più rispetto a un behaving che è un po' inutile abbiamo scheletri di ogni tipo di ferro di leather che sono quelli più facili e quelli di diamante invece sono quelli un pochino più complicati da abbattere però essendo scheletri comunque diciamo principalmente di attacco con il corpo vogliono facilmente perfetto andati eccolo qua un altro scheletro trovate che ci uccidiamo magari quell'altro il problema è che questi non riescono non riesce a buttarli indietro perché non prendono danni da knockback però sono morti ok secondo piano ragazzi allora da questa parte ci dovrebbe essere un po' di roba uh vedo un tavolo con dentro la roba tra cui anche del ferro perfetto altre fornaci con dentro del coal e lì mi sa che potrebbe essere un po' difficile entrare vedo già qualche cosa di brutta quindi per ora non ci entriamo direi prenduto però di tornare un attimo giù perché la parte di sotto non l'abbiamo per niente esplorata quindi prima di completare il primo piano direi di andare giù a controllare cosa riusciamo a trovare negli altre zone anche se non è che era così grande effettivamente come zona abbiamo tanto questa qui e mi sa che forse no forse è un pochetto più grande di quello che pensavo qui abbiamo un orologio che comunque per il momento non ci interessa tante libreria di ogni tipo un altro scheletro oh qualcuno da dietro qualcuno da dietro assalto nemico alle spalle maledizione maledetti ok allora continuiamo ancora l'esplorazione da questa parte dobbiamo sistemare meglio queste stanze oh mio dio ha weakness e vegans oh mio dio ah cavolo questo sarà difficile da battere ragazzi il problema è che avendo la nutella in diamante non muore manco per il cavolo quindi aspettate che devo un attimo sistemare meglio di qua vieni qua piccolo amico si sta curando ragazzi ovviamente e dobbiamo cercare di ucciderlo tranquillamente perfetto ucciso prima che si curasse quindi siamo avvantaggiati benissimo quindi da qui vedo qualcos'altro vedo ovviamente un piccolo creeper cavolo non vorrei che esplodesse perché insomma non è bello quando i creeper esplodono qui c'è l'ultimo scheletro che immagino oh non è l'ultimo che immagino siano a proteggere l'ultima parte qui del dungeon ok quel creeper è morto ma in realtà non ha fatto molto si sicurano entrambi guarda di che stronzi benissimo vediamo un po' da questa parte oh mio dio un altro scheletro bello potente direi prima di tutto di chiudere questa zona per il momento e controllare da questa parte cosa c'è ovviamente possiamo accendere sempre le torce se vogliamo più che altro abbiamo come vedete qui delle cose che si attivano che potranno aiutarci un pochetto qui c'è un altro scheletro che è rimasto chiuso qui abbiamo l'assalto dei nemici a non finire ora devo fare molta attenzione perché giustamente mi faranno il culo in tantissimi oh cavolo ok mi conviene postarmi in questa stanza e salire sulle scale sinceramente almeno per colpirli un pochetto diamoli fuoco ragazzi e poi facciamoli camminare come vogliono loro sinceramente sti cavoli abbiamo soltanto due cuori abbiamo soltanto due cuori ah mi hanno ucciso si fa più difficoltosa la faccenda perché con una spada non riusciamo a sistemare tutto quanto abbiamo preso comunque una cosa con unbreaking e ci sta una spada di diamante in più sarebbe un'ottima scelta quindi potrò anche tentare di prenderla allora per parte del castello credo sia completata al 100% rimaneva soltanto da controllare la parte di sinistra che però mi sa che non andava via avanti di così ma saliva solamente si effettivamente saliva solamente no di qua c'è qualcosa un uovo ma nulla di troppo interessante qui una chest però con del cibo va bene nulla di troppo buono aia deve fare parecchie attenzioni anche al di realtà del cibo che finisce molto molto troppo velocemente recupererei magari questo cibo qua soltanto un pezzo di pesce ma ci dovrebbe bastare salire da ogni parte va bene tanto comunque porteranno tutti la stessa strada secondo me forse alcune parti sono un pochetto meno rischiose rispetto ad altre quindi conviene fare un po' delle scelte allora di qui vedo che c'è un po' di gente che però non è quella inciantata quella potente quindi non ci sono mob potenti si sale ancora verso la fine del castello e mi sa che ci sono due parti di castello diverse oh mi ha messo poison sta witch lo sapevo io tornate al secondo piano vediamo un po' di recuperare questa carne sicuramente e vedremo un attimo di qui allora siamo tornati sopra nel punto in cui ce l'avevamo fermati all'inizio a parte che dovrei accendere un po' di queste torce comunque diciamo aiutano più che altro non sono nemmeno torce insisto sono lampade sono stupido io a chiamarle torce un diamante perfetto e un po' di lava bucket e abbiamo un po' di cosette buone allora direi di accendere un po' tutto quanto perché questa sarà casa mia quindi mi sembra giusto sistemarlo almeno non per troppo tempo sarà una casa provvisoria perché sai io devo trasferirmi in un castello mi sembra giusto andarci allora di qui sembra che non ci sia nulla di particolare anzi si accendeva semplicemente questa cosa e basta quindi immagino sia l'unico pezzo rimasto questa parte qui finale quindi terzo piano che porterà da qualche parte se evidente c'è una nuova zona che però non è visibile da qua devo forza passare giù e mi sa che questo qua aveva anche wheeler perché giustamente mi ha wheelerato allora come riesco a passare di qua credo con un altro posto devo trovare credo quindi c'è un ingresso secondario che però non so da che parte sia questo qua immagino ok ottimo e di qua allora non c'è nulla per il momento accendiamo queste cose qua per essere sicuri perfetto continuiamo anche da questa parte non si sa mai uh delle chest vediamo un po' qui dentro oh yes thorns fire protection altre cose carine una spada un po' bruttina devo sincero e mi sa che qui sopra ci sarà il boss finale di questa parte qui quindi quello è un pochino più difficoltoso ci ne è un attimo questo vediamo un po' ok si ci sono ci sono un po' io di questi tipi e mi conviene uccidere prima di tutto questo qua di leather e poi quegli altri qui con l'armatura un po' più più o meno resistente ok questa qui di diamante è quello più pericoloso però se ci mettete se mi mettete di impegno lo uccidete tranne quando si rifulla la vita lo stronzo perché è uno stronzo la mia fara davvero leva pochissimo devo fare delle nuove cose cercheremo di passare a dimiglioramenti per quanto riguarda le nostre armature i nostri armamenti visto che non sembrano funzionare al 100% bene quindi mi servirà qualcosa di meglio ci sono troppi nemici qui vicino più che altro ce ne sono davvero troppi e inciantati o equipaggiati bene soprattutto quello in diamante che non è male e la cosa brutta è che ti seguono sti stronzi cioè non è che dici facile no oddio quanti sono in diamante bello che sono pure alti due quindi non potrei manco tipo mettermi nascosto in due blocchi aspettare che muoiano no no ok abbiamo preso anche smite sulla nostra arma che dovrebbe essere mi sa più forte contro gli scheletri giusto mi sa di sì sì dovrebbe essere contro non morti di uno o tre cuori perfetto quindi la spada migliora sempre più con cose che servono effettivamente quindi va bene allora torniamo sopra controlliamo cosa c'era adesso sopra questa zona anche se la mia spada non è che sia messa proprio bene quindi è gravemente distrutta però credo di aver ucciso la maggior parte dei nemici quindi ci siamo oh sì ora è letteralmente una distruggi scheletri a manetta benissimo da qua cosa c'è non c'è nulla di particolare si sale ancora sopra vediamo un po' questa parte accendiamo un attimo questo torniamo un attimo sopra da qua allora vediamo un po' oddio no ok 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 c'è pure quello che spara le pozioni questo non me lo aspettavo perfetto 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 bel problema torniamo un attimo giù aspettiamo un attimo che vengano da noi e ci ha andato poison per 22 secondi ma edizione un bel problema dovrò proprio non nasconderci e aspettare che poison passi e mi sa che rimane l'ultimo piano solamente che è questo qui e poi abbiamo completato tutto quanto da quella parte non dovrebbe esserci nulla vediamo un po' chi c'è qui ragazzi miei che ci aspetta l'ultimo piano e mi sa tanto che ci sarà o il boss o nulla totale ok il nulla totale perfetto quindi siamo riusciti a completare questo dungeon con un po' di difficoltà per collare gli scale altresistemente ma va benissimo pensavo di morire ma edizione shoo che culo e quindi adesso abbiamo una nuova casa ragazzi che non è niente niente male bisogna un po' lavorarci effettivamente per sistemarla ma direi che come dimora iniziale si rende abbastanza buona quindi va benissimo ragazzi per il momento così quindi io per il momento ragazzi vi saluto ci vediamo presto a nuvissima puntata della nostra serie della exit da questo è tutto ciao ciao e al prossimo video non perdetevi la prossima puntata in cui andremo finalmente a scoprire le novità importanti del modpack ciao ragazzi al prossimo video